Benvenuti in questo nuovo video di Among Us E questo oggi è una cosa abbastanza particolare Allora, durante il video parlerò tranquillo eccetera eccetera Quando vengono chiamati i corpi o le emergenze Io non potrò parlare Quindi sembrerò un sacco sospetto Sia nel caso in cui sono impostore Sia quando sono innocente E in questo caso però sono appunto innocente Allora, faccio l'emergenza 9, 9, 3, 4, 8 Oooooopla Ogni volta che sto facendo l'intro C'è sempre qualcosa per bloccarla E' veramente impressionante Among Us non mi lascia mai in pace Quindi rischio di essere votato Secondo me verrò votato Speriamo Sinceramente penso che verrò votato Allora, così E poi bisogna andare qui Perfetto anche questo E basta E basta lo dovrei dire io Perché? Perché sì E' impazzita Sono molto arrabbiata oggi E' un cocodrillo Sono molto arrabbiata oggi Allora io schifo ossigeno e vado a farmi le missioni Se vogliamo perdere perdiamo Allora Uno Quindi qua Facciamo questo Ho praticamente finto le tasche Che forte Bella doppia raga Eh, ho visto dalle telecamere che c'era Vessicchio morto Ho trovato Buddy e Vessicchio Tutti e due stesi proprio morti E' stata una bella storia d'amore Vessicchio E' stato un onore morire con te Non ho idea di chi sia Siamo purtroppo non ho visto chi è stato Cioè ho visto semplicemente il cadavere Ah, era le telecamere tu? Sì Ho acceso ed era caduto il cadavere Quindi nessun indizio? Nessun indizio Allora, Steph non è al 100% Perché era in elettrica Sì, io sono stato in elettrica L'ho visto che stava facendo le cose che girano Poteva essere fake task raga Però mi sembra difficile che abbia fatto una kill navigation E sono andato in security Ho acceso security e c'era il corpo di Vessicchio appena caduto Ok Quindi Steph è pulito Martina potrebbe Non è Perché hanno fatto la doppia ed è ferma E sto pensando Non so nient'altro Boh, neanch'io ragazzi Non ho visto nulla Quindi skipperei Steph ha votato Ma sta cosa mi viene Mi hai votato Steph Secondo me ha votato Fere Così a caso Probabile Mi vota random Ti vuole vendita No, mi posso votare 20 secondi Vero, no Ok, mi sono mutato così posso tornare a parlare E faticoso stare zitti Ancora secondo me non se ne sono accorti Perché non hanno Del fatto che non stai parlando Anche secondo me Perché comunque abbiamo parlato un po' tutti Io ovviamente ho parlato quindi E sono stato fortunato Perché se mi avessero interpellato Sarei sembrato molto più sospetto Invece Marci mi ha coperto Che poi sono E tu non hai avuto bisogno di dire nulla Esatto Io ovviamente ho parlato per sviare un po' E non ho detto nulla Perché voglio che se ne accorgano Ma avete qualche ossessione con ossigeno oggi? Porca miseria Allora Mamma mia Io non vorrei seguire Loco Perché non so se Loco è o non è Aiuto Meglio star lontani da Martina Meglio star lontani Ok No 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 Ma è un altro doppio Sì Siamo Loco Siamo Loco Io sono entrato in Steph che stai a fa' Cos'hai votato? Comunque io sono entrato in La cosa delle telecave E c'era Loco morto In security? Poi è entrato Sì in security Quindi poteva ucciderlo 50 volte Sono tornata Secondo me Steph Steph E niente Secondo me Steph è pulito Io sono stata tutto il tempo in caffetteria Se volete Ti abbiamo visto Quindi confermo Sei pulita Io ho dubbi su Fere Natta e Francicoso Io Fere so che è pulita Allora siete voi due Perché la copri Ma no No stavamo No ragazzi Franci Neanche mi ricordo quasi di averlo incontrato Cioè scusate però Sto scherzando Così random Boh non lo so ragazzi Ragazzi dovremmo fare Qualcuno dovremmo votare Allora Martina non è Steph non è Ovviamente E io non sono Eh però grazie Marci Cioè io non sono No ma certo E poi dico magari Nat non è Franci non è Buonanotte Io ho paura di Nat Che Nat abbia fatto Secondo me Nat ha fatto self-core Io vado su Nat così Ma cosa? Io vado su Steph che non parla Venga io non sapevo niente Ma perché Nat? Steph ha votato Nat subito però prima Quindi penso che sia abbastanza sicuro di questa cosa Eh chissà È fastidiosissimo da parlare Io ho provato anche a farlo notare Perché hanno buttato fuori Nat? Fere Che vuoi? Ora posso dirlo Ha ammazzato di fronte a me Ma non potevo parlare Ah ecco che Io non ho potuto parlare No io non avevo sospetti Quindi porca miseria Ah Stavo soffrendo Oh mio Dio Si è fatto beccare Ah che fastidio Stavo per rimpazzire Poi proprio con Nat Che mi triggera a priori il cervello Capito? Che imbecille Poi capito? Sono appena entrato Stava andando via Sono appena entrato Allora Dopo l'insulta Faccio ossigeno Se sono in due Dobbiamo votare qualcuno Ah quindi così chiamata a caso Eh perché secondo me Volevano fare la kill Con questa crisi in ossigeno Io sono andata in ossigeno Ho fatto l'emergenza Non ho trovato nessuno Era solo Io mi fido solo di Steph raga Di voi non mi fido più Ma io cosa vuoi? Perché? Ma io non ho capito perché Perché è l'unico che ho visto In tutta la partita Per quello mi fido solo di lui Eh però anche io non t'ho visto Quindi allora devo dire Che sei colpevole Eh sì certo Per me Allora sì Allora è Marci No non lo so Però Steph non parla Quindi Boh ma Franci ha fatto L'emergenza Secondo me non è lui E che vuol dire? Eh boh Avrebbe fatto la kill Ah Steph basta Devi parlare Io non ce la faccio più Non posso Io non ce la faccio più Non posso Fere Sto soffrendo Io ti ammazzo Sto soffrendo Ti uccido Eh poni fine alla mia esistenza Almeno posso star zitto C'è troppo silenzio 8 0 6 5 1 Uh Chi è stato? Franci? Non parla a nessuno Io non è arrivato dopo Non parla a nessuno? Vabbè Si è parlato al suo voto Non ci credo Raga due partite che dico Marti Marti l'altra L'avevo beccata Stavolta erano Fere e Nat Ma porca miseria Nat Porca miseria Steph t'aveva beccato Capito? Gli hai fatto la kill di fronte Porca miseria Fere te la giochi troppo bene Non ti riesco a schiamare Sei salvo Solo perché ero zitto Nati sei un imbecillo E me ne stavo Cioè ero appena entrato Se ne stavo andando da security Scarso che non sei altro Putri Non potevo parlare Ti odio Steph perché è avviato Si sono cambiati i colori Sono blu Pazienza Sono blu Non voglio essere blu Ma infatti Io adesso so che morirò per prima Perché ho fatto troppi match Da impostore Quindi sicuramente qualcuno Si identicherà Voi state vedendo questo video Quindi vi sembra tutto ok Ma Fere è già stato impostore Tre volte? Due volte Due? Due Però tipo in quattro partite Sì due Quindi tanta roba E me ne sono giocate stra bene Buonasera Salve Salve Ma già una kill? C'era loco morto in security Ah strano Aia Sapeva troppo loco allora Di già Ha visto troppo Ha visto troppo Ma io sono diventato rosa Lo so Si sono cambiati tutti i colori Io sono blu Ma perché? Non lo so Steph ha avviato così Infatti ho visto blu Ho detto no Ma questa non è fere Non è più lei Come potete fere così? No io ho schippato No no Schippo Raga dai A caso no Non bevo Ciao No Raga Ragazzi L'ho buttato fuori Facendo così Esatto Povero Xiao Ok Però nulla di faticoso Va bene Va bene Finché l'inizio Star zitti è facile Il problema è quando Si iniziano a vedere le cose Eh certo Spero che nessuno Se ne approfitti Ammazzando di fronte a me Non riesco a riconoscermi Sarà più triste Eh anche lamentare Questo colore non mi piace Per una volta che sei blu Fere Volevo essere blu Ok Allora dovevo fare Una quest qui E come qui Io sto rasciando molto Le tasche Potrei iniziare A star con qualcuno Il problema è che Non mi fido di niente Di nessuna E fai bene Ma Aspetta 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 Non so chi è entrato E mi vuole incolpare Ma aspetta Io ti voglio incolpare Aspetta 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 Che posso spiegare Contestualizzate dove Esatto Allora Avete fatto le luci Io sono entrato per ultimo Sono andato a fare Le tasche sopra Che c'avevo sopra Poi ho finito le tasche Sono sceso E c'era un cadavere lì Sotto Raga Io volevo Io volevo dire che Stavo per andare a reportare Francicoso In navigation Però è partito subito Il report Uguale Steph in tutto questo ha votato Steph mi mette ansia però Chi è che è entrato in elettrica Allora E mi ha palesemente visto Davanti al cadavere Io Cioè io ho visto il cadavere E poi ho visto Vessicchio Sì però io non sono Giuro Vabbè chi è che c'era insieme a noi E no E no No però aspetta È proprio qua che ti sbagli Il giuro non si può dire Però mi fido Perché effettivamente Quando abbiamo fatto le luci Se è andato su Io sono sceso Sono andato verso Lower engine Quindi è qualcuno Che è entrato Ha fatto l'achile Se n'è andato Io mi fido di Vessicchio Perché se no non è neanche passato In botola Perché c'ero io lassù E no è proprio uscito Allora sarà Tu Marti non è Tu Marti non Ma Perché 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 eri lì Ma non ero lì Marti Sono andato in Lower engine Io ho fatto Tu sei entrata Io non ho visto nessuno No neanch'io Io non ho idea Quindi non lo so Io sono arrivato in nav E c'era francicoso Però non c'era nessuno Quindi boh Per ora skipiamo Però è l'ultimo skip Che possiamo fare Esatto Ho un presentimento Ho vero Marci A me è sembrato un po' sospetto Però non voglio votare O accusare random Io ho dato il mio voto A meno che non sia tu In modo da mettere il pallino In testa alle persone Ok Perché è giusto così Eh però io non ho Cioè Si parla solo di sospetti Magari Dal tono di voce Niente di più Perché poi io effettivamente Non ho visto nulla Posso dire Che quando gli impostori Chiamano l'emergenza Prima che si possa killare Andrebbero denunciati Però riesci a farlo Perché nel frattempo In cui sei arrivato No Molte volte no Eh però ad esempio Prima stavo giocando io La chiamata Nat Sono morto La chiamata Nat E se abbiamo fatto In tempo a farla Perché il tempo Che si arriva lì La fai Capito E anche quella Una tecnica Sono un fantasma Dici No Vabbè No Sta zitto Almeno Se sei in mute mode Almeno in chat Puoi scrivere Ti prego qualcosa Anche una lettera Ma se app Stava con me in admin E' uscito dall'admin E' riportato Quando hai avuto da me E io non E quindi cosa E mo raga E raga Io stavo facendo le foglie In caffettere in alto Io stavo ritornando a nav Ma ho avuto paura ancora Di trovare il morto Ma dove è che è morto Secondo me fuori admin Comunque perché Io sono entrato in admin E c'era Steph Però è usciva Tempo che io ho fatto la tessera Lui l'ha riportato E beh sì Secondo me Sembra sta ridendo un botto Anche io c'ho paura Di brutto Sembra colpi Xiao Vabbè Buddy tu dovevi Xiao? Stavo andando in navigation Io non so Raga stavo andando in nav Però Nel senso È arrivato il report Quando ero sul corridoio alto Diciamo Quello sai dove c'è la L No Io continuo ad avere Sus su Marci Ma io non ho fatto niente Marti Tu dove eri Marti Io ho fatto le luci Sono uscito da sinistra Ero sopra mad Poi scopri che sono Marci e Steph In tutto questo Eh non lo so Infatti anche Steph Con questo silenzio Mi fa paura A caso Vabbè però Steph ha votato Steph ha votato Marci Eh magari quindi C'hai preso Non l'ho fatto io A fare la kill Però eri tu l'impostore Ma Non so No Che succede? Ma l'avete votato un po' random Nel caso Eh ma era lui Dici Eh sì L'hai visto? No lo stai dicendo a caso Vedi? Lui ha un metodo di giocare Ok Costante Quando è crewmate Nel momento in cui non lo fa E parla in certi modi È sempre Eh ma allora Allora è poco furbo Eh lo so Deve migliorare come impostore Nel caso Devi essere un mago del fake Esatto Allora Ho paura di morire Ciao Perché non hai reportato? Eh Stavo Perché stavo facendo la task Ma io ho visto subito Io appena sono entrato in admin C'era report No ti giuro Non l'ho visto Ma sei serio? Non ho visto niente Eh Boh raga Niente Basta Io Non posso dire nulla Perché Ah Steph ha votato Io non posso dire nulla Perché Xiao Cioè In senso Eravamo lì insieme Sono arrivato E lui si è fermato a fare la task Però non è che Posso dire Allora Non lo so Non lo so Allora Io non sono Cioè Io non ho fatto niente Raga Sinceramente Xiao Io per una volta Non so Vuoi votarmi? No Io Io ascolto te questa volta O Steph Però Steph non parla Quindi In realtà Potrebbe essere Steph Che ci sta trollando tutti Però Sarebbe pure brutto Perché se abbiamo buttato fuori Solo Marci Allora Marci Era l'impostore Ok Abbiamo 16 secondi però Intendo escludere Steph Perché è stato lui A votare Marci No raga Io sono arrivato con te Sono arrivato Va bene Io voto Marci Va bene Io voto Buddy Dai No raga Cioè non lo so Ditelo Se volete Io sto votando Quello che vota Steph Senza sapere nulla Ma infatti Non è che vi state parlando Allora La mia teoria Dato che Mi è sembrato Molto 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 Vero Quello che diceva Xiao Secondo me Buddy ha fatto la kill E ha subito reportato E ha detto Boh Che strano È morto Nessuno ha segnalato Capito? Allora io ovviamente Lo so chi è Però è questa la mia teoria Te lo confermo Te lo smettisco No no Non voglio sapere nulla Ok Allora Però io so chi è Perché quello rimasto È quello che mi ha ucciso Capito? Ok Quindi Ovviamente so chi è Sono tutti chiusi qua Però Se mi dessero fiducia Io potrei fare un'emergenza Ma se non parli Sei becille E Quindi Aiuto E quindi Quindi Se io voto Stefano Non ce la faccio più Raga Cioè Questa è una disperazione Non è Buddy Non so Xiao Ascolta il tuo cuore Ricordati di tutto quello Che ti fa Martina Ascolta il tuo cuore Ti prego Ascolta il tuo cuore Xiao Non sono io Anche se io voto Cioè se io voto a Martina No Si E tu hai votato a Martina Finisce di nuovo due a due No io stavolta No ho votato a Martina Ah e quindi E quindi L'hai buttato fuori Che ragionamento è il tuo? Infatti Xiao Ma l'ho capito Xiao Ma posso sapere perché Sono stato ucciso Io che non ho fatto niente Seconda Spera Quindi l'ho buttato fuori io Che partita incredibile Che partita Signori Io non ho capito però perché avete buttato fuori Marci Posso spiegare tutti e due le kill? Allora Buddy In quel caso Mi è sembrato troppo sincero Xiao Ho capito che aveva fatto la kill E era portato subito Nel caso di Marci Semplicemente Quando non vai mai ad admin E a security E sei impostore E hai cambi leggermente la voce Sei sempre tu Ma non ero io Ma non ho fatto niente io Lo so Lo so che non hai fatto le kill Ma sapevo che eri tu l'impostore Per il playstyle Io avevo Ragazzi Era il silenzio Eh lo so Ma se tu hai sempre uno stile di gioco Da impostore È giusto che ti becchi